buongiorno eccoci alla fiera di pescare show di vicenza nello stand dell'amico paolo sganzerla che ci presenta anche quest'anno un'interessantissima novità a te paolo ciao alfio grazie un saluto a tutti in particolar modo ai follower di kayak hero il prodotto che presentiamo quest'anno è un modello studiato esplicitamente per lo slow pitch jigging si tratta di un molinello piccolo potente leggero con caratteristiche specifiche per appunto per lo slow pitch il molinello realizzato in collaborazione con uno dei più importanti esponenti del settore del sud est asiatico mr carvings pack e tra l'altro è il proprietario dell'ispa un re-reperer di singapore come di conseguenza come di consueto per evero il mulinello ricavato interamente dal pieno caratteristiche principali sono leva ad escursione molto lunga barra superiore avanzata per impedire che il trecciato possa girare intorno al mulinello durante la pesca frizione con avanzamento a scatti un recupero molto veloce che consente circa un recupero di 115 120 centimetri per giro di manovella manovella lunga regolabile su tre posizioni 92 100 e 108 millimetri line stopper frizione in fibra di carbonio che consente un max drag di circa 30 32 libri impugnatura disassata sei cuscinetti a sfera ibrido ceramici con classe di precisione abex 7 il modello che abbiamo presentato si è ovviamente un prototipo ed è in via di sviluppo e di migliorie sarà disponibile da fine primavera inizio estate ovviamente diverse colorazioni e con tutte le personalizzazioni possibili direi che questo è tutto dalla fiera di vicenza allo stand everall un saluto a tutti ciao vi aspettiamo ancora su kayaker o channel tv per altri video report sulla fiera pescare show di vicenza